con noi, peraltro Antonella sei stata anche tu oggi, a inizio puntata, hai sottolineato l'importanza di questa giornata ma noi adesso cambiamo un po' tono perché domani comincia The Voice Senior dai raccontami tutto, fammi divertire un po' perché altrimenti qui chiudiamo, insomma diciamo vogliamo chiudere Happy dai voltiamo pagina anche se non bisognerebbe mai voltare a ricordarsi assolutamente ecco, il segnale con Antonella, vediamo ti presento intanto, oggi ho voluto proprio essere qui con Loredana e con Orietta che sono le due coach, la parte diciamo femminile di The Voice Senior poi naturalmente ci sarà Gigi D'Alessio e Clementino, loro sanno poco perché naturalmente poi noi inizieremo domani ma io invece so molto Alberto perché naturalmente ho sentito le prove, i provini abbiamo dei, diciamo, non mi viene da chiamarli arzilli concorrenti meravigliosi che hanno dai 60 agli 88 anni, che cantano benissimo ma soprattutto hanno delle storie belle da raccontarci perché diciamo che la seconda parte della nostra vita è molto bella e loro hanno questa grande passione, questa urgenza come l'ha chiamata tante volte Loredana per la musica e quindi qualunque lavoro hanno fatto, vengono dei più disparati lavori in realtà hanno nel cuore questa passione per la musica che non li ha mai abbandonati e quindi è un po' di sentimento, un po' di emozioni, un po' di risate, un po' di musica un po' di tutto, è stato un programma insomma molto amato l'anno scorso Senti, Antonella, io vedo loro due buone buone, calme calme e poi lì invece scatta la competizione Loredana non ti riconosco, cos'è successo? Proprio sembri, non so Eh, aspettala Eh, appunto Aspetta che cominciamo, vedrai Non abbiamo ancora sentito niente Cosa succede? Hanno detto che sono delle voci bellissime Siamo curiosissime, a questo punto io vorrei ripetermi con la vittoria dell'anno scorso E questo non lo nego Ma lei è competitiva da morire, eh Vi ricordate anche l'anno scorso quando c'era qualcuno che le piaceva Vieni da me, sei mio, sei mio Me lo ricordo E invece, Orietta, come si è inserita? Come è stata accolta Orietta nel gruppo? Beh, loro sono adorabili Mi hanno accolta con entusiasmo e con tanto affetto, devo dire Specialmente Loredana Speriamo che adesso in trasmissione non diventi troppo aggressiva E che mi rubi tutti i concorrenti lei Eh, qua è veramente un vero caso Perché sai, noi ci giriamo Però sono poi loro che decidono con chi andare E quindi Loredana è una garanzia Dato che ha vinto l'anno scorso Eh, Orietta, ma tu Grazie Ricordiamo anche, Orietta, il tuo grande successo di quest'estate Quindi non fare la modestina Perché secondo me tra te e Loredana Io non vorrei essere nei panni di Gigi e di Clementino Eh, questo ve lo dico Però anche loro fanno l'unione Anche loro Noi due siamo unite Siamo comunque, Alberto, una bella squadra Certo Io come te amo molto lavorare in serenità Lavorare col gioco di squadra E quindi, insomma, noi già da adesso ci divertiamo moltissimo Speriamo di far divertire anche il pubblico E anche di farlo un po' emozionare e pensare Certo Perché insomma c'è bisogno anche un po' di leggerezza Di sognare E anche di emozioni E di pensare che nella vita tutto può accadere Tu non sei comunque la mia rock star preferita Anche tu, ma quanto mi manchi Ma vieni a trovarmi qui Hai detto che venivi Qua è la prima di Natale Io ti aspetto qui al tavolo Me l'hai promesso, Loredana Va bene La faccio Ti mando Un grande abbraccio a tutti Antonella, Orietta, Loredana Bocca al lupo per domani Ciao Antonella Ciao Mille baci Ciao Ciao Ciao